In Molise la pandemia rallenta la sua corsa per la seconda settimana consecutiva. La regione passa da rischio moderato a basso con l'indice RT che scende a 0,74. La scorsa settimana era 1,1. E quanto emerge dal settimanale monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità sull'andamento della pandemia scende ancora anche l'incidenza dei casi ogni 100.000 abitanti. Ora è 966 contro i 1.165 casi della settimana scorsa. In aumento invece i ricoveri soprattutto per effetto dell'attivazione del reparto per gli anziani fragili. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 7,7 per cento con la soglia d'allarme al 10 e al 22,2 per cento in area medica dove la soglia d'allarme però è 15. Veniamo invece ai dati del bollettino quotidiano. Anche qui qualche segnale incoraggiante ci sono infatti più guariti che nuovi positivi. I contagi sono 364 mentre i malati che sono guariti sono 415. Con 2630 tamponi processati il tasso di positività è al 13,8 per cento. Inmutata la situazione a Cardarelli con due pazienti ricoverati e due dimessi restano 44 i malati in ospedale. Per quanto riguarda infine i contagi nei comuni sono solo otto i centri con numeri a due cifre. In testa Campobasso con 62, poi Termoli con 57, Isernia con 38, seguono Boiano con 13 casi, Santa Croce di Magliano con 11 e infine tutti con 10 nuovi positivi Castelmauro, Ururi e Venafro.